Io ho un ricordo magnifico di Ritorno al Futuro, poi ho un piccolo aneddoto mio personale per il quale non dimenticherò mai quando seppi di aver vinto il provino del film, perché è legato a un momento speciale della mia vita, io avevo appena preso il congetto dal militare, ero ancora in divisa, avevo il foglio di congetto in mano quando chiamai per sapere com'era andata il provino. Ero ancora in caserma, mi stavo congettando due giorni e seppi che ero vinto il Ritorno al Futuro, che era un film a cui tenevo moltissimo, quindi capirete che fu una giornata di fine luglio per me di gioia infinita, faceva già un caldo terrificante e iniziamo nel giro di 4-5 giorni a doppiare questo film con un caldo torino all'esterno e con un gelo terrificante per varie condizionate che ancora ricordo, nelle sali di doppiaggio dell'International Ricordi di Abbia Urbana a Santa Maria Maggiori. C'era veramente un freddo pazzesco, io mi ricordo infatti che dopo il primo giorno in cui mi presentai a doppiare, perché me l'hanno vestito così, da lì dove mi andai a fare i dormi col maglione, questo per darmi un'idea del freddo che faceva in quella sala. Oltretutto, freddo, che aumentava in quanto il film avvenne doppiato tutto, come si dice in giro professionale, a colonne separate, ovvero noi non ci incontrammo mai. Io non conoscevo allora Ferruccio Amendola, non conoscevo Angelita Basanisi, non conoscevo Alessandro Rossi, doppiai di Torno al Futuro e continuai a non conoscere. Andai a sentire il film, andai alla proiezione di controllo che fece ovviamente l'International Ricordi e ci presentammo quella sera, perché non ce l'avevamo mai incontrati. Perché come spesso accade, per i film che vengono molto seguiti dalla edizione internazionale, e come spesso accade per alcuni film che vengono proprio missati all'estero, Ritorno al Futuro non venne missato in Italia, ma venne missato a Londra. E quando vengono all'estero, vogliono le voci tutte su piste separate. E quindi, inevitabilmente, non ci conosceremo. Una nota di merito che voglio dare, perché i progressi tecnici ci sono stati nel nostro lavoro da Londra a oggi, vent'anni non sono passati in Italia. Oggi è una pratica piuttosto diffusa quella di doppiare tutte a colonne separate, perché è normale avere dei registratori multivisti e sentire il lavoro degli altri mentre si fa il lavoro nuovo. Allora non c'erano i registratori multivisti. E va fatta una nota di clausola del direttore del doppiaggio del primo Ritorno al Futuro, che non era Mario D'Angelo, ma era Franco Rossi, perché noi doppiamo tutto senza ascoltare le voci dell'altro. Lui si ricordava esattamente come avevamo fatto dire le battute a tutti noi. E infatti il film mi sembra che sia una testimonianza di un lavoro estremamente armonico. Ma pensate che nessuno di voi avrebbe mai immaginato che nessuno di noi si fosse mai visto, ma soprattutto credo che nessuno di noi avesse mai sentito cosa ne ha detto l'altro. Ma così è stato, perché c'era un certo modo di lavorare che non è facile ritrovare oggi in certe situazioni di fretta, di corsa, a basso budget, perché un po' accennava da Sandro Cerco prima. Comunque, il mio giudizio sul film? Magnifico. Una delle sceneggiature più divertenti, più brillanti, più intelligenti che abbiamo mai visto al cinema, che è dal 1979 che contiene interrotteamente, c'è un po' di sceneggiatura che ho visto. Accidenti, Locke, perché hai strappato quella lettera? Mi sentissi un po' più di tempo. Ehi, un momento, ho tutto il tempo che voglio. Ho una mattina del tempo, posso andare indietro più presto e avvertirlo. Ok, dieci minuti, basta. Ecco tutto, circuito del parale Cispo, flusso canalizzatore, sta flussando, motore avviato, vai! No, 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 puoi! Adesso andiamo avanti! Ok, proviamoci. Sono passati solo vent'anni. E' un po' più benissimo, come fossi adesso. Mudo. Accidenti, Locke, perché hai strappato quella lettera? se avessi un po' più di tempo. Ehi, un momento, ho tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo, posso andare indietro più presto e avvertirlo. Ok, dieci minuti bastano. Ecco fatto, circuito temporale acceso. flusso, flusso canalizzatore, sta flussando. Motore avviato, via! No, 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 non può! Non adesso, avanti, avanti! Grazie! E' un po' più di tempo. Grazie! E' un po' più di tempo. Grazie! Grazie! Grazie a tutti, grazie soprattutto per la passione con cui ci seguite. Almeno voi, per essere con la vostra passione, tendono meno oscuro quello che facciamo ogni giorno. Quindi grazie.